Ciao a tutti ragazzi, in questo tutorial vi faccio vedere come possiamo creare facilmente e velocemente una campagna pubblicitaria utilizzando il circuito di Microsoft Ads, quindi Bing Ads. Ho cominciato a utilizzare Microsoft Ads, a differenza magari di Google oppure di Facebook, soltanto recentemente per promuovere alcune offerte e l'ho cominciato a utilizzare per una ragione ben specifica, anzi due ragioni diciamo. La prima ragione è che il costo per click tende ad essere molto minore rispetto a quello che potrebbe essere magari su Google oppure su Facebook. Inoltre Microsoft tende ad essere meno fiscale nella sua recensione delle varie pubblicità che andremo a creare. Ci permetterà di fare cose tipo il direct linking a determinate offerte e insomma non guarda troppo il pelo nell'uovo se si può dire così. Diciamo che Google è molto più fiscale in questo senso. Comunque sì, sono rimasto davvero sorpreso nello scoprire che non tutti vanno su Google. Io pensavo che tutti andassero su Google, snobassero completamente Bing, invece non è assolutamente vero. Soprattutto se consideriamo anche gli altri paesi, diciamo non solo l'Italia, il traffico su Bing è davvero molto molto importante. Quindi è un network da tenere veramente in considerazione quando vogliamo pubblicizzare un determinato prodotto o servizio che sia magari un nostro business oppure un prodotto in affiliazione. Comunque sì, in questo tutorial andiamo a vedere come creare una pubblicità. Non ci addentreremo troppo all'interno delle opzioni più avanzate. Magari faremo un altro tutorial per andare a coprire le opzioni più avanzate che troviamo all'interno di questo network. Come detto, voglio che siete in grado di creare una campagna pubblicitaria in pochi minuti e cominciare a pubblicizzare il vostro sito, il vostro prodotto o servizio o qualsiasi cosa vogliate promuovere. Comunque sì, andiamo su ads.microsoft.com e andiamo a cliccare su iscriviti subito, qui sopra o qui. Andiamo a inserire la nostra mail, eccetera. Dobbiamo andare a creare il nostro account, andare a confermare la nostra mail e tutte quante quelle cose lì. Dopodiché, quando siamo pronti, abbiamo confermato la nostra mail, eccetera, eccetera. Andiamo su questa pagina e ci troveremo all'interno di questo pannello che ci dà una panoramica delle nostre campagne, le parole chiave e tutte quante le altre varie specifiche di ogni campagna in particolare. Se vogliamo creare una nuova campagna, andiamo su questo tab campagne. Qui andiamo semplicemente su crea, su questo pulsante blu per creare una nuova campagna. Ci clicchiamo sopra. Qui abbiamo diverse opzioni a seconda di quello che vogliamo ottenere con il nostro sito web, il tipo di conversione. Quindi, in questo caso, andiamo a visite al sito web. Clicchiamo su questa opzione. Qui abbiamo annunci di ricerca oppure annunci gruppo di destinatari. Quindi, sono due tipi di annunci che vengono presentati in modo diverso. Io voglio il classico annuncio, quello che appare in cima alla prima pagina dei risultati di ricerca per una determinata keyword. In questo caso, annunci di ricerca. Seleziono quest'opzione e clicco su avanti. Qua andiamo a dare un nome alla nostra campagna. La chiamiamo esempio a filiazione marketing, in quanto voglio promuovere il mio sito web. Qua possiamo importare le opzioni e le impostazioni da un'altra campagna, che in questo caso non abbiamo. Qua andiamo a dare un budget alla nostra campagna, quanto vogliamo spendere ogni giorno. Ad esempio, mettiamo 15 euro al giorno. Qua andiamo dove si desidera che gli annunci vengano visualizzati. Qua abbiamo Canada, Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti. Quindi, le country del Tier 1. Tutti i paesi e le geografiche disponibili. Oppure, consentimi di scegliere le località specifiche. Clicchiamo su questa qui e andiamo a selezionare Italia. Clicchiamo su Enter. Qua andiamo su Target. Naturalmente, potremo andare a mirare anche a regioni specifiche oppure a città specifiche all'interno del territorio italiano. In questo caso, voglio tutto il territorio nazionale. A questo punto, chi deve poter vedere gli annunci. Selezioniamo persone nelle località Target, che è già selezionato. E deselezioniamo persone che cercano o visualizzano pagine relative alla località Target. A meno che non siamo un'agenzia di viaggi oppure una compagnia di hotels che, appunto, vogliono che anche le persone che sono al di fuori del territorio italiano accedano alla nostra pubblicità. In questo caso, noi vogliamo che soltanto le persone all'interno del territorio italiano vedano la mia pubblicità, escludendo tutte quante le altre. Quindi, deselezioniamo in questo caso quest'opzione. Qua andiamo a scegliere la lingua di referenza, in questo caso l'italiano. Togliamo la lingua inglese. Qua abbiamo annunci di ricerca dinamici. Questa è una delle opzioni avanzate alle quali vi accennavo prima. Non ne parleremo in questo tutorial, ne parleremo magari in altri. Comunque sia, salva e vai al passaggio successivo. A questo punto andiamo a creare il nostro gruppo di annunci. Innanzitutto inseriamo il nostro sito web, quindi in questo caso affiliazionemarketing.com. Quando andiamo a dare il nome gruppo di annunci, anche in questo caso andiamo su affiliazionemarketing e lo digitiamo qui. Qua dobbiamo andare a inserire le nostre parole chiavi per le quali appunto vogliamo che la nostra pubblicità appaia su Microsoft, su Bing. Possiamo vedere che quando abbiamo inserito il sito web qua sopra si è aperta una finestra qui a fianco sulla destra con delle keyword che ci sono state suggerite in base appunto al nostro sito web. Quindi Microsoft è andato sul nostro sito, lo ha analizzato e ci ha dato queste parole chiave che possiamo andare ad analizzare. E se decidiamo di utilizzare un particolare gruppo di annunci, clicchiamo semplicemente su questo più qua. Ad esempio affiliazione, gruppo di annunci, affiliazioni, guadagnare con le affiliazioni più altre quattro parole chiave che possiamo vedere qua. Clicchiamo semplicemente su questo più e tutte queste keyword verranno aggiunte qua sulla sinistra. Io preferisco però andare sul keyword tool al quale possiamo accedere cliccando su strumenti e poi andare su pianificazione parole chiave. Naturalmente andate a aprire questa pagina in un altro tab che sarebbe questo e qua possiamo andare a cercare nuove parole chiave mediante una frase, un sito web o una categoria. Clicchiamo su questo menu a cascata. Qua andiamo a inserire affiliate marketing oppure la pagina di destinazione che naturalmente otterremo le stesse keyword che abbiamo ottenuto prima. Quindi andiamo a cercare le keyword in un modo leggermente diverso andando a cercare una keyword e vedere le varie variazioni che Microsoft ci fornisce. Naturalmente qua scegliamo lingua italiana, località Italia, tutta la rete network e l'intervallo di 12 mesi. Clicchiamo su visualizza suggerimenti. Qui abbiamo suggerimenti gruppo di annunci oppure suggerimenti parole chiave e clicchiamo su suggerimenti parole chiave, tendo a utilizzare di più questo. E qui possiamo andare a organizzare queste parole chiave per pertinenza, per medi ricerche mensili, concorrenza, offerta consigliata e vi dicendo io le vado sempre a sistemare per medi ricerche mensili. Ok, naturalmente poi bisogna andare a vedere anche la concorrenza e l'offerta consigliata. Naturalmente tutte queste statistiche sono da prendere con un pizzico di sale, nel senso che sono tutte quante delle medie, non sono dei risultati che sono incisi sulla pietra. Comunque sì, andate a analizzarli e quando volete andare a inserire una determinata keyword, ad esempio come guadagnare online, l'andiamo semplicemente a copiare in questo caso e l'andiamo a inserire qua. E facciamo lo stesso con le altre keyword, make money online e andiamo a inserire un'altra keyword, andiamo ad esempio su web marketing online, giusto per questo esempio. E' più naturalmente voi inserite delle altre. Ecco possiamo creare un nuovo gruppo di annunci, naturalmente se vogliamo andare a effettuare lo split test oppure se vogliamo andare ad ampliare la nostra campagna pubblicitaria, in questo caso non lo faremo. E andiamo a cliccare semplicemente su salva e vai al passaggio successivo. Ok, qua dovremo andare a creare il nostro annuncio. Abbiamo creato il nostro gruppo di annunci, adesso creiamo la nostra pubblicità vera e propria, quella che poi andrà ad apparire su Microsoft, su Bing, per una determinata keyword di ricerca. Clicchiamo su più crea annuncio, qua lasciamo su annuncio di ricerca reattivo, qui andiamo a inserire il nostro URL finale, anche in questo caso affiliazionemarketing.com. Qui abbiamo un piccolo preview di questa pubblicità, sito web, i titoli e poi le descrizioni qua sotto. Quindi i titoli possiamo inserirne al massimo tre, quindi soltanto tre verranno mostrati da Microsoft, a volte soltanto due, dipende, il terzo a volte viene mostrato e a volte meno. Comunque sia, qui andiamo a inserire un titolo pertinente al nostro business, ad esempio come guadagnare con le affiliazioni. Quindi naturalmente abbiamo un limite di 30 caratteri che abbiamo già superato, quindi dobbiamo andare a togliere qualcosa, ad esempio guadagnare, lasciamo solo guadagnare con le affiliazioni. Vi consiglio di mettere tutte le prime lettere in stampatello. Ok, qui andiamo a mostrare questo titolo nella posizione 1, quindi Microsoft lo mostrerà nella prima posizione, non lo andrà a ruotare tra la seconda e la terza posizione oppure con la prima. Qui andiamo a mettere un altro titolo, ad esempio inseriamo Feed Marketing WordPress, qua ci danno dei suggerimenti se vogliamo utilizzarli. Lo andiamo a utilizzare in questo caso per la semplicità di questo video. Comunque sia, voi dovete andare a scrivere una descrizione e inserire dei titoli ben precisi appunto che identificano il vostro business nella maniera migliore. Questo lo mettiamo nella posizione numero 2 e inseriamo anche un terzo titolo. Come detto prima, a volte vi è dimostrato, a volte no. Comunque sia, noi lo andiamo a inserire. Andiamo ad esempio, aumenta i tuoi guadagni e lo mettiamo nella posizione numero 3. Quindi la pubblicità sarà mostrata sempre in questa maniera. Quindi abbiamo guadagnare con le affiliazioni la posizione numero 1, affiliate marketing WordPress la posizione numero 2, aumenta i tuoi guadagni. Naturalmente se andiamo a deselezionare queste opzioni, questi tre titoli verranno rotati tra di loro, quindi aumenta i tuoi guadagni e potrebbe trovarsi anche al posto di guadagnare con le affiliazioni. Dopodiché andiamo sulla descrizione. Sulla descrizione, anche in questo caso, andate a scrivere una descrizione come si deve per la vostra pubblicità. Io vado a sceglierne una che mi viene data in default per semplificare questo video. Intanto andiamo a mettere tutte queste prime lettere in stampatello. E anche in questo caso andiamo a mettere tutte le prime lettere in stampatello. Qua possiamo andare anche ad aggiungere la posizione numero 1 o numero 2. In questo caso però lasciamo qui sbloccata, quindi Microsoft andrà a ruotare queste due descrizioni. E qui andiamo a inserire la seconda. Guadagna con le affiliazioni su WordPress. Inizia a generare i ricavi. Ok, anche in questo caso tutto in capital. Qua lasciamo stare l'URL mobile, almeno che non abbiamo un URL particolare e diverso rispetto a quello principale che abbiamo inserito in precedenza. E clicchiamo semplicemente su salva. A questo punto abbiamo la nostra pubblicità già creata. Naturalmente se vogliamo andare a creare una variazione di questa pubblicità, possiamo andare semplicemente a copiare questo annuncio e poi andare a cambiare determinati elementi all'interno della nostra pubblicità stessa. Ora questa pubblicità sarebbe già pronta per essere lanciata, quindi potremo andare semplicemente qua sotto, salvare e andare al passaggio successivo. Voglio però aggiungere un paio di estensioni. Quindi anche queste estensioni potrebbero far parte, diciamo, delle opzioni avanzate, del quale magari potremo parlare in altri tutorial. Comunque se vi faccio vedere abbastanza velocemente che cosa si intende con le estensioni, perché dovreste utilizzarle, perché intanto sono gratuite, quindi non ci costa niente utilizzarla e potranno abbellire la vostra pubblicità in maniera davvero notevole. Ok, per quello che riguarda le estensioni, abbiamo qui una pubblicità direttamente dal Microsoft Advertising Network che fa uso delle estensioni nel migliore dei modi. Quindi questo non è un link a un sito web organico, ma una pubblicità vera e propria. Possiamo vedere tutte quante queste estensioni che sono state aggiunte. E noi potremo fare esattamente la stessa cosa con la nostra pubblicità. Quindi dipendentemente se abbiamo un negozio online che vogliamo promuovere, quindi vendiamo dei prodotti a determinati prezzi, magari abbiamo degli sconti a disposizione in un determinato momento, potremo utilizzare determinate estensioni se vogliamo che venga chiamato un numero oppure se abbiamo diversi link all'interno del nostro sito web che rimandano a diversi servizi che noi offriamo. Teniamo questa pubblicità in mente e andiamola a guardare ancora un secondo. Dopo che torniamo sulla nostra campagna e qui possiamo andare a inserire un paio di estensioni. Innanzitutto abbiamo le estensioni Sile Link, quindi visualizzare negli annunci collegamenti aggiuntivi che riindirizzano i clienti a pagine specifiche del sito web. Quindi possiamo vedere cliccando su questo pulsante, poi andiamo su ulteriori informazioni, ci clicchiamo sopra e qui avremo un piccolo preview delle cose che potremo andare ad inserire all'interno della nostra pubblicità. In questo caso, nel mio caso specifico, quindi abbiamo un sito sulla affiliate marketing, andiamo a aggiungere la nuova estensione Sile Link. Qui andiamo a inserire un testo di collegamento, ad esempio andiamo a mettere Dropshipping. Qui possiamo inserire una descrizione, quindi facoltativa, che praticamente sarebbe questa, Red Cloud Laser Printers, e poi la descrizione sarebbe questa qua sotto. In questo caso però lasciamo soltanto Dropshipping, naturalmente andiamo a inserire l'URL finale, copiamo e andiamo a incollare, clicchiamo su Salva, quindi la nostra estensione è stata aggiunta, andiamo a inserire un'altra, ne possiamo inserire al massimo 20, qua ad esempio mettiamo Amazon FBA, guarda la finale, salva, e qua mettiamo esempio WordPress e andiamo ad aggiungere ancora un altro. andiamo semplicemente su Affiliate Marketing, clicchiamo su Salva, e quando siamo pronti clicchiamo su questo Salva qua sotto per andare a salvare le nostre estensioni, quindi le Side Link Extensions sono state aggiunte, adesso abbiamo le estensioni azione, quindi Chat Now, Act Now, Order Now, Start Now, Try Now, Learn More, Act Now, eccetera eccetera, possiamo andare ad aggiungere una nuova estensione, per creare una azione, quindi scegliamo la lingua italiana, naturalmente, che dove è? eccola qui, quindi agisci ora, esempio, andiamo su Accedi, Salva, andiamo ad aggiungere un'altra, e lasciamo agisci ora e clicchiamo su Salva, quindi Microsoft andrà a ruotare queste azioni ogni volta che andrà a mostrare la nostra pubblicità, quindi non andrà a mostrare tutte, logicamente, in questo caso, e clicchiamo su Salva, qua abbiamo estensioni Callout, Apply for free, Get Started, Contact Us Now, eccetera eccetera, andiamo ad aggiungere una nuova estensione Callout, possiamo andare a digitare esempio Contattaci Adesso, oppure Oggi, qua possiamo andare a selezionare le ore dei giorni selezionati, naturalmente, se abbiamo delle ore di apertura di un ufficio e così via, in questo caso le lasciamo deselezionate, clicchiamo su Salva, e su Salva nuovamente, qua abbiamo estensioni Prezzo, naturalmente, se vendiamo qualcosa all'interno del nostro eShop, andremo ad utilizzare questa estensione, non l'utilizzeremo in questo caso, e se è il frammento di codice strutturato, qua possiamo andare ad aggiungere determinati servizi che potremo offrire all'interno del nostro negozio, ad esempio, andiamo ad aggiungere una nuova estensione, andiamo su Italiano, qui andiamo su Articoli, Hotel consigliati, Destinazioni, esempio Corsi, ok, qua se abbiamo dei corsi particolari, andiamo ad esempio su Amazon FBA, qua andiamo su WordPress, e scriviamo anche Instagram, esempio, e qui andiamo su Salva, e clicchiamo nuovamente su Salva, estensioni di collegamento filtro, possiamo lasciarle per questo esempio, estensioni e revisioni anche, estensioni chiamata, possono essere aggiunte se abbiamo un numero di telefono, in particolare, che vogliamo che i nostri clienti chiamino, in questo caso lasciamo deselezionate, anche questo, estensioni località o estensioni volantino, le possiamo anche lasciare, così come sono, e clicchiamo su Salva, e va al passaggio successivo, ok, in quest'ultima sezione andiamo a effettuare un review, di tutte le impostazioni, che abbiamo creato, durante la creazione di questa campagna, quindi budget individuale, abbiamo detto 15 euro al giorno, qua strategia offerta, CPC avanzato, rettifico offerta per ottenere più conversioni, quindi lasciamo su questa opzione, per questo tutorial, tutte quante le altre opzioni, faranno naturalmente parte, dei prossimi tutorial, nel quale andremo appunto, a considerare le opzioni avanzate, qua abbiamo il gruppo di annunci, qua abbiamo la nostra offerta, quindi se andiamo a offrire, 31 centesimi di euro, per ogni click, avremo 162 click stimati, ogni mese, le impressioni, e la spesa mensile stimata, quindi quello che andremo a spendere, abbiamo impostato, il country Italy, naturalmente se andiamo a creare, un'offerta negli Stati Uniti, noteremo che l'offerta, dovrà essere considerevolmente, maggiore, per ottenere appunto, lo stesso numero di click, naturalmente possiamo andare anche, a incominciare, con un'offerta di 15, vediamo un secondo, quello che ci dice, ok avremo 8 click, 177 impressioni mensili, andiamo su 25, quindi avremo già 147 click, che direi potrebbe anche andare bene, naturalmente tutte queste statistiche, anche in questo caso, come nel caso delle keyword, sono tutte medie, quindi anche in questo caso, sono da prendere con un pizzico di sale, quindi non consideriamo queste statistiche, in maniera religiosa, nel senso che possono cambiare, anche considerevolmente, dipendentemente da appunto, molti fattori, questo diciamo è una media, e quando siamo pronti, clicchiamo su salva, ok qua abbiamo la nostra campagna, in fase di revisione, naturalmente Microsoft dovrà andare, ad analizzare questa campagna, se abbiamo fatto tutto quanto bene, se non abbiamo utilizzato, dei testi offensivi, all'interno della nostra pubblicità, oppure delle keyword, che magari Microsoft reputato non idonee, la nostra pubblicità dovrebbe essere, approvata nel giro di pochi minuti, e quando è approvata, l'avremo direttamente qui, quindi qui potremo andare a accedere, a tutte quante le statistiche, ai nostri gruppi di annunci, agli annunci, e tutte quante le altre specifiche, della nostra campagna, naturalmente potremo andare, a creare una nuova campagna, potremo andare, a modificare quelle esistenti, potremo andare ad aggiungere, delle ulteriori keyword, alla nostra campagna, potremo andare ad aggiustare il bid, potremo andare ad aggiustare, il nostro budget, quindi spostarlo da 15 euro, magari 25-30 euro, comunque sia, potremo andare a modificare, la nostra campagna, mentre è attiva, quello si può fare tranquillamente, ci sono tantissime altre cose, che potremo fare, con Microsoft Advertising, è uno strumento davvero, molto molto sofisticato, del quale appunto, parleremo più dettagliatamente, nei prossimi tutorial, in questo tutorial, volevo soltanto farvi vedere, come cominciare una campagna veloce, in modo che possiate pubblicizzare, un vostro prodotto o servizio, in maniera pressoché immediata, quindi questo direi, che è tutto per questo tutorial, anche in questo caso, vi ringrazio per aver lavorato, fino alla fine, vi ricordo di cliccare sul, mi piace, sul condividi, se l'avete trovato utile, interessante, in qualche modo ragazzi, mi aiuterete con l'algoritmo di YouTube, vi ringrazio in anticipo per questo, e soprattutto, sul subscribe a questo canale, sulla campanellina, per la notifica immediata, dei miei futuri tutorials, noi ci vediamo alla prossima, ciao!